Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Brutta avventura per fortuna, terminata con indieto fine per un uomo di Napoli. Il 47enne, ieri durante un'escursione tra le montagne erpine, ha perso completamente l'orientamento e non è riuscito più a tornare indietro. Dopo aver girato a vuoto per diversi minuti, nel tentativo di ritornare alla sua auto, si è reso conto di aver perso completamente ogni punto di riferimento. Fortunatamente, attraverso il telefono, è riuscito a mettersi in contatto con i vigili del fuoco di Avellino, che dopo un'ora di ricerche sono riusciti a raggiungere l'escursionista. I vigili del fuoco sono intervenuti sui monti dell'Oasi regionale del Partegno, sulla montagna di Supra, a circa 5 km dall'Oasi WWF, e tre comuni di Pietra Stornina e Pannarano, per poter ritrovare il 47enne, che in contatto con la squadra dei pompieri, è riuscito a fornire le sue coordinate. E dopo un'ora è stato ritrovato in buone condizioni di salute, anche se abbastanza provato, in una zona decisamente impervia. L'uomo è stato accompagnato alla sua autovettura e dopo poco è tornato a casa da solo.